Il Consiglio Comunale stabilisce quelli che sono gli argomenti da parte della prima seduta di Consiglio dai quali per quella della Costituzione numerica e nominativa dei gruppi conciliari e l'Ufficio centrale e elettorale con la provocazione dei diretti dall'Astra e il gruppo uguale anche i gruppi conciliari presenti nel Consiglio Comunale e con la verità individuazione di subito e di seguenti gruppi conciliari con la proposizione nominativa a fianco di ciascuno di voi Allora, uniti per Casoria, Corruccio Marco Corruccio Marco, consigliere per Casoria, Anna Giuseppe Obiettivo Comunale, Grazioso Alessandro Mariano Nicola Lullo, Cassettino Steda Rosaria Casoria Rivera, Capano Andrea, Talletti Rosano Fignola Pasquale, Manolo Ruiz, Vincenzo Rossetta, Miletti Massimo Cittadini Perpetri, Barba Giuseppe, Bezza Mariana, Pasoria Rencourt, Namagna Vincenzo Candidato a sindaco a messa al valottaggio, non vincitore Il popato Angela Russo, con 9, 12, 7, 2019 Protocollo 27, 960 Comunicato di Caglieria, gruppo Angela Russo, sindaco per Casoria Angela Russo, sindaco per Casoria Romiano, Gennaro e Angela Russo Forza età, uniesima dia l'aula, Lega Saudini, Ficco Gennaro Movimento 5 Stelle, Tele Ragnani Parà, Romano, Valummo, Pena Gruppo D, Casquale, Luccio, Rossino e Sposito Ok, allora il Musilio Comunale di Libera diventa l'atto della Costituzione di numeriche nominative di tutti i consigliani Così come in due di settimana Chi si alza da una strada La stasera Il consigliere, il consigliere, il consigliere Buongiorno a tutti Io saluto il pubblico Con il suo ragionamento Con il suo ragionamento Con il suo ragionamento Con il suo ragionamento Con il mio ragionamento Con il mio ragionamento Con il sindaco E il consigliere Volevo semplicemente fare Un altro sindaco La mia nota Era stato anche chiesto Il cambiamento del nome E quindi io chiedo Di ricevere il delibera Questo cambiamento Da Angela Russo, sindaco E quindi io chiedo Quindi Vediamo chi resta Allora Leggiamo proprio la nota Allora Leggiamo proprio la nota Che il consigliere russo Ha presentato A causa di presenze E poi c'è il bravo 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 Il bravo C'è il bravo C'è il bravo C'è il bravo il quattro ottimo 15 e si adegano la semata. Infine, i sui detti consiglieri esistono i suventi l'anno pregata di coppia della carica di valore. Consigliato bene da propria anni da anni, plusso eserci della valorezza che ricevano tutto. Bene. Allora, ci resta assoluta, la prova di si alza per una prima. Capo, passa a colare la possibilità. Passiamo al sesto o lato della mattina che fuori.